John Terry non farà ricorso a un appello contro la sentenza della Federcalcio inglese che lo ha giudicato colpevole di razzismo. Il capitano del Chelsea aveva due settimane per impugnare la sentenza ma invece ha scelto di scusarsi per il suo vocabolario. Pertanto il 31enne difensore verrà squalificato per quattro giornate oltre alla multa di oltre 250.000 euro. Terry è stato assolto da qualsiasi accusa in sede penale a luglio ma a settembre era arrivata la sentenza sportiva. Un pannello di giudici indipendenti aveva ritenuto i suoi insulti nei confronti di Anton Ferdinand e QPR profondamente lesivi e la sua difesa alquanto implausibile. Terry aveva anche perso la fascia di capitano in nazionale raffreddando enormemente i suoi rapporti con Rio Ferdinand, fratello di Anton e suo ex partner nella difesa dei tre leoni. Un giorno prima della sentenza Terry aveva annunciato il suo addio alla nazionale citando problemi di incompatibilità fra la stessa e il suo ruolo. Sabato il capitano dei Blues salterà la partita contro il Tottenham per poi sedere in tribuna durante i due match che il Chelsea giocherà contro il Manchester United in Coppa di Liga e campionato.